Storie di giustizia, esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni. Stupisce talvolta la forza profetica delle favole, la loro capacità cioè di cogliere aspetti universali dell'animo umano che, anche a distanza di secoli dalla composizione delle fiabbe, si manifestano in tutta la loro ampiezza. Leggendo La Bella addormentata nel bosco, si viene subito colpiti da un'evidente sproporzione narrativa che coinvolge l'intero racconto, fino a metterne in dubbio la credibilità stessa della storia. Ci si chiede, cioè, se è credibile che il mancato invito alla festa per la nascita di una bambina possa aver scatenato un tale odio da aver fatto pronunciare alla fata malefica un maleficio di morte nei confronti della stessa bimba, del tutto incolpevole riguardo alla scelta degli invitati. E poi, cosa ancora più agghiacciante, questo proposito omicida viene perseguito diligentemente per decenni dalla fata e costituisce l'architrave narrativa del racconto. Vero è che il maleficio verrà mitigato dall'intervento di una fata buona, una di quelle invitate alla festa, ma la ragazza resta comunque condannata a sorbirsi pur sempre, cent'anni di sonno forzato, sol perché, è opportuno ripeterlo, suo padre, quindici anni prima, non aveva invitato malefica alla festa. Mi pare eccessivo, francamente. E allora dobbiamo riflettere sul senso profondo della fiabba, anche perché ci accorgiamo che c'è un'incidenza diretta sul tema della giustizia. La favola illustra la dinamica del rancore che deriva dall'essere discriminati, o meglio, dal sentirsi discriminati. E sì, perché in questa storia, come spesso accade quando si scatena la furia del presunto escluso, non c'è stata alcuna ingiusta discriminazione, ma solo il legittimo esercizio del diritto del padrone di casa ad invitare chi vuole. Al giorno d'oggi questo tema è diventato di stretta attualità. Oggi tutti si sentono discriminati riguardo a ogni aspetto, a prescindere dal fatto che lo siano realmente. E attorno a queste presunte discriminazioni si coagulano le indignazioni di moltitudini di leoni da tastiera, che sui social network inveiscono, solidarizzano, pontificano e invocano l'uguaglianza, senza sapere spesso di cosa parlano. Si compiacciano di un indistinto egualitarismo senza considerare che uguaglianza è parità di trattamento a parità di condizioni, non certo parificazione forzata di situazioni differenti. Per tornare alla favola, tutto nasce dal fraintendimento di malefica, che oggi appare comune a molti. Fraintendimento consistente nel credere di avere un diritto in realtà inesistente, quello cioè di dover essere invitata alla festa. Ma perché ci risulta così indigeribile accettare che la vita è fatta di differenze, che la dinamica della vita è fondata sulla scelta, sistematica e costante, che può operare proprio in considerazione delle differenze? E perché non accettiamo che il meccanismo della scelta è perfettamente naturale e non determina perciò stesso alcuna discriminazione? Scegliere non vuol dire discriminare. L'egualitarismo è una tentazione che attanaglia l'uomo di ogni tempo e che si ripresenta sempre sotto aspetti apparentemente nuovi, riconducibili però alla medesima matrice, quella di un frainteso egalitarismo cucinato ora in salsa economica, ora in salsa ambientalista, oppure sociale, biologica o animalista. Si tratta sempre della stessa musica. Non riusciamo proprio ad accettarle le differenze. E più forte di noi, sembra quasi che sia iscritto nel nostro DNA. E allora sospetto che sia proprio così, che debba trattarsi di qualcosa di genetico, non c'è altra spiegazione. In fondo, il nostro DNA si è formato nel lunghissimo periodo in cui eravamo cacciatori-raccoglitori, quei millenni in cui vivevamo in comunità ristrette e nomadi e le differenze sociali erano pressoché inesistenti, e quelle economiche pure. Per forza. Quando si ammazzava un mammut, mangiavano tutti, per settimane. Non perché gli esseri umani allora fossero più buoni rispetto ad oggi, ma perché non c'erano i frigoriferi e non esistevano magazzini di stoccaggio per conservare le merci, primo passo per l'accumulo a vantaggio di alcuni e per la privazione degli altri. Tutte conquiste che poi ci sono state regalate dalla rivoluzione agricola, in tempi relativamente recenti. Questa cosa del mammut ci deve essere rimasta dentro, in qualche modo, solo che poi l'abbiamo fraintesa ed estesa a tutti gli aspetti della vita, in barba al principio di realtà. Questa storia, nata forse dal mammut, quindi, è poi sfociata nella presunta discriminazione che la fata malefica ritiene di aver subito per non essere stata invitata alla festa. E forse, allora, la bella addormentata nel bosco vuol dirci proprio questo, che cioè non dobbiamo offenderci e piantar grane se qualcuno non ci invita alla sua festa. La gioia di ogni rapporto umano, in fondo, consiste proprio nel fatto di essere personale, unico, irripetibile, necessariamente libero. Non può invocarsi il diritto alla considerazione e alla stima altrui. Questo diritto non esiste, non può esistere. Sarebbe la negazione di se stesso. Finisce qui questa nuova puntata di Storie di Giustizia dedicata alla bella addormentata nel bosco e scelta da voi attraverso un sondaggio che è stato lanciato sul canale Telegram di Storie di Giustizia. Vi consiglio di sottoscrivere il canale perché le novità stanno arrivando, sono molte. Innanzitutto avranno la prelazione nella distribuzione dei due e-book nuovi che sono apparsi a firma di Lucio Bongiovanni e che ripercorrono con una selezione tematica alcune delle puntate di Storie di Giustizia che hanno superato oramai le 50 puntate. Ecco, questi due e-book saranno distribuiti a coloro che ne fanno richiesta innanzitutto sul canale Telegram, sulla pagina Storie di Giustizia di Facebook e attraverso appunto Telegram scrivendo a Lucio Bongiovanni o a Paolo Pugni. Quindi sottoscrivete il canale Storie di Giustizia. È un invito caloroso anche perché stavo dicendo il canale sta diventando sempre più interattivo. Lucio Bongiovanni interviene per lanciare le sue provocazioni, le sue domande, le sue osservazioni, le sue visioni relative alla giustizia e la vita di tutti i giorni. Ci siamo trovati l'altro giorno, avete visto il video appunto sul canale Telegram per pianificare nuove iniziative e quindi stay tuned, non perdetevi questa opportunità e rimanete sincronizzati con noi, sintonizzati con il canale Storie di Giustizia. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Sapete che ieri è uscita la puntata speciale dedicata a The Night Off, tutte e cinque le puntate insieme, se non avete ancora avuto l'occasione di sentirle non perdetevele, sono veramente delle grandi, grandi chicche, quelle che ha tirato fuori dal cappello Lucio nel raccontarci, nell'interpretare questo serial tv The Night Off estremamente interessante. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi auguro buona fine settimana a tutti, arrivederci da Storie di Giustizia. Storie di Giustizia Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.